Ma c'era proprio bisogno di un altro video sull'ennesima notte tra l'analogico e il digitale? Beh, direi di sì, visto che i video sulla nostra questione suona meglio l'analogico e il digitale sono ancora tra i più visti sia sul nostro sito sia anche su altri siti, anche i siti stranieri che tra l'altro seguono molto questo nostro canale. Un altro dei motivi per cui credo sia importante parlarne perché notiamo tutti che c'è una poderosa crescita delle vendite non solo degli LP che sono ormai stabili ma addirittura delle cassette delle compact cassette della Philips, quelle che usavamo tutti noi una volta nell'autorario. Addirittura recentemente ho visto un video su Sky che parlava proprio di questo ed è da lì che mi è nata l'idea di questo video. Allora a proposito di guerra tra analogico e digitale, cosa dicono i fautori della supremazia del suono analogico? Il suono analogico è migliore perché il suono digitale spezzetta campiona il suono in tanti piccoli pezzettini tantissimi nel caso di una frequenza di campionamento molto alta ma comunque rimangono pezzettini non c'è la fluidità tipica invece dell'analogico. Oppure ancora che l'analogico è migliore perché il digitale rappresenta tutto coi numeri e i numeri non c'entrano con la musica, ma la motivazione principale è che la musica è analogica e quindi la registrazione deve essere per forza analogica e non digitale. Beh, sono tutte non vere. Portiamo dall'ultima affermazione, la vita e la musica sono analogiche. No, non sono analogiche, non sono analoghe a nient'altro se non a se stessa, la vita è analoga a se stessa e la musica del momento in cui viene rappresentata in una sala da concerto o in uno stadio non è analoga a nient'altro se non a se stessa, non è né digitale né analogica, è se stessa. E eventualmente è la trasposizione, cioè quando noi dobbiamo prendere questa musica e spostarla in un altro spazio, in un altro tempo, che allora sì che la registrazione, la trascrizione, il trasporto di questa musica potrà avere uno dei due formati, o analogico o digitale. A dire il vero, questo succedeva già nell'antichità, dagli inizi degli albori della musica. L'esigenza di trasportare la musica c'era già, e come si faceva una volta che non c'erano, quando non c'erano le registrazioni? Beh, si faceva così con questi attrezzi. Se la musica si portava sotto braccio, l'autore o un addetto alla copisteria codificavano la musica su un pentagramma, scrivevano le sette note e le scrivevano con segnacci che sembravano quarti, ottavi, sedicesimi, trentaduesimi, sono ancora numeri, e scrivevano accordi di terza e di quinta, e più tardi col jazz usavano scale pentatoniche diminuite. Notate come sto usando sempre, parlando di musica, termini relativi alla matematica? Ma andiamo avanti. Questi spartiti, che dove c'era la musica codificata a mano, venivano portati all'esecutore, che a sua volta li decodificava in diretta e suonava alla sua maniera, secondo il suo modo di decodificare, suonava l'opera che c'era scritta codificata sulla carta. Ad oggi questo si fa ancora, ma noi parliamo di registrazione, e la registrazione prevede che la musica, una volta entrata nel microfono e trasformata in un segnale elettrico, prima trasformazione uguale per tutte le forme di registrazione, questo segnale elettrico può dividersi in due strade, la strada digitale e la strada analogica. Vediamo la strada digitale. La registrazione digitale sarebbe quella che appunto spezzetta la musica in tanti pezzettini e l'abbiamo tutti vista rappresentata in queste forme, sui vari libri che raccontano in maniera visuale di com'è la tecnica di campionamento. E tutti quanti, vendendo queste immagini, crediamo che la musica venga addirittura spezzettata in pezzettini. In realtà non è così. Vediamo quello che succede nel momento di conversione tra analogico e digitale, tra digitale e analogico. Vi sottolineo ancora una volta le parole conversioni, perché abbiamo sempre una conversione, sia quando la scriviamo, sia quando la registriamo in digitale, sia quando la registriamo in analogico. La conversione digitale lavora più o meno così. Ne parlo in estrema, estrema sintesi, non ne non ridiscano i tecnici che conoscono il teorema di Rehnquist, perché lo sto veramente semplificando al massimo. Allora, dal nostro microfono arriva un'onda sinuisodale, semplifichiamo di 1 Hz. Filtriamo tutto quello che c'è sopra 1 Hz e vediamo quest'onda da 1 Hz. Come la andiamo a campionare? Come la andiamo a quantizzare? Campionare vuol dire prendere dei campioni, quantizzare vuol dire dargli una quantità. Quanti campioni prendiamo per fare in modo di rendere questa onda unica e ripetibile? Due. Ne bastano solamente due campioni al codificatore da analogico a digitale per registrare in maniera univoca quest'onda. Il decodificatore, il famoso DAC, solamente con questi due valori sarà in grado di ricreare esattamente la stessa onda. Il decodificatore infatti non è che prende questi due valori e fa pit e pot. Ricrea un'onda e quella è l'unica onda che può passare attraverso quei due punti. Non può essere più corta, non può essere più lunga, non può essere più alta, altrimenti non passerebbe tra quei due punti. Il codificatore da analogico a digitale campiona quest'onda 1 Hz con due punti, il doppio della frequenza. Il decodificatore prende questi due punti e ricrea la stessa identica onda che c'era in origine. La stessa identica onda, non bit, non gradini, onda. Beh, è facile, dite voi, se mi fai l'esempio di 1 Hz, tralasciando tutto il resto, è chiaro che bastano 2 bit. Va bene, allora pensiamo che le sinusoidali non siano solo a 1 Hz, ma a 1000, 2000, a 20.000 Hz, cioè il massimo della frequenza audibile. Anche in quel caso il teorema di Nyquist appunto prevede che serva il numero doppio di campioni rispetto alla frequenza massima che vogliamo campionare. A noi interessa la banda di frequenze da 20 a 20.000 Hz e ci serviranno al massimo 40.000 byte per campionare convenientemente e in maniera univoca qualsiasi onda all'interno di questo range. Attenzione, il filtro a 20.000 Hz è importantissimo. Quindi con 20.000 campioni noi siamo in grado, noi, il decodificatore, è in grado di creare qualsiasi onda sia stata campionata all'origine. Perché parlo di 40.000 Hz quando la frequenza di campionamento del CD è 44? Beh, abbiamo detto che è molto importante, per fare in modo che questa teorema funzioni, è molto importante che la banda che abbiamo in esame sia filtrata, non vada più in su dei 20.000 Hz, altrimenti si creerebbero dei doppioni, i famosi alias. Un taglio a 20.000 Hz prevede che ci sia una pendenza che arriva fino a 22.000 Hz più o meno, ed ecco perché è 44.000 Hz, ma è 44.100 e quei 100 servono perché in realtà all'inizio, vi ho mentito, non sono solamente in due i bit per riprodurre la frequenza da un Hz, ma sono due e un pezzettino. Morale della favola, con 44.100 bitrate al secondo è possibile campionare esattamente una banda di frequenza che va da 20.000 e il decodificatore, se fatto bene, ricrea esattamente la stessa onda, non gradini, non bit, ricrea esattamente la stessa onda che c'era in origine. Sembra poco credibile questo processo, vi faccio un altro esempio. Devo consegnare al mio zio Peppino, che abita a 10 km di distanza, una serie di circonferenze, quindi non onde sui uso e dali, ma circonferenze, sono roba simile. Ho due strade, quella analogica e quella digitale. Quella analogica prevede che io prendo una superficie su un materiale qualsiasi creta, terracotta, plastica, appoggi la mia circonferenza, scolpisca un solco della stessa identica circonferenza che devo trasmettere al mio zio Peppino e consegni questa tavoletta a un corriere che gliela porta, mi devo raccomandare che la tratti bene, che non gli faccia andare sulla polvere, che non gli faccia prendere caldo o freddo perché si dilata, insomma consegna la zio Peppino. Il zio Peppino la riceve, prendi il suo strumento analogico, ad esempio un metro molto preciso, lo infila all'interno della circonferenza, dopodiché lo estrae, lo misura e ha in effetti la misura precisa della circonferenza iniziale a quale lo devo io. C'è un altro sistema, quello analogico, io prendo la mia famosa circonferenza che devo mandare al mio zio Peppino, la campione quantizzo, cioè misuro un pezzettino, il raggio. Scrivo su un foglietto questo numero, su un foglietto di carta, su un tovagliolo di carta, la pallottolo la lancio al mio zio Peppino che la prende al volo, legge e scrive sulla sua calcolatrice raggio per raggio per pi greco e ottiene esattamente la stessa circonferenza di prima con una precisione almeno uguale a quella analogica. Almeno uguale perché pi greco è tra e 14, quindi abbiamo due decimali, quindi la nostra misura sarebbe precisa al centesimo di millimetro, no? con due decimali. Ma noi sappiamo che pi greco è un numero che non ha due decimali, è un numero infinito di decimali. Allora se questi due decimali li possiamo paragonare alla risoluzione e alla profondità di un bit, se i bit fossero due, i decimali diventerebbero quattro e già avremo una precisione al decimillesimo. Ma se i bit diventano 24, i decimali dopo il 3 non saranno più due, ma saranno qualcosa intorno al milione e mezzo di decimali, quindi pi greco sarà 3, non 14, ma 3,1 milione e mezzo di decimali. Il calcolo che farà mio zio Peppino sarà estremamente preciso, raggio per raggio per 3,1 milione e 500 mila decimali. È precisa la circonferenza che ottiene mio zio Peppino? Direi proprio di sì. Non vi sarà sfuggita l'analogia della scolpitura della circonferenza con il solco che c'è su un disco in vinile, no? Anche quello è una codifica analogica, il suono viene codificato tramite un solco inciso in un pezzo di plastica che poi viene basato, ma della tecnologia del disco ne abbiamo già parlato in un altro video, dove tra l'altro ho raccontato qualche limite ma mi sono fermato un po' perché diventava troppo lungo il video, un po' perché sembravo veramente di parte. Mi sono fermato e non ho parlato della lettura dei solchi, cioè tutto quello che riguarda la puntina, puntina che deve tracciare tutti questi solchi e che difficilmente riesce a leggere i 20.000 Hz e possiamo aumentare il peso di lettura per fare in modo che la puntina tracci molto bene, ma roviniamo il disco, allora alleggeriamo il peso di lettura e la puntina galleggerà sopra tutte queste ondulazioni così veloci. Beh, insomma, è un bel casino. Ma l'audiofilo maniaco dell'analogico ha un'arma nel cassetto rispetto al vinile, il nastro magnetico. E allora vediamo la codifica sul nastro magnetico. Eravamo rimasti al microfono che convertiva il suono in un segnale elettrico, questo segnale elettrico quando va in un registratore digitale deve essere amplificato perché addirittura deve andare a creare un campo magnetico molto forte all'interno della testina di registrazione tramite un avvolgimento eccetera eccetera. Abbiamo questa seconda conversione. Dal segnale elettrico lo facciamo diventare un campo magnetico che a sua volta genererà un flusso magnetico che si dovrà imprimere sul nostro nastro. E abbiamo già un po' di conversioni, ma parliamo un attimo di questo nastro. Il nastro è giustamente un nastro di poliestere sul quale viene spalmato in maniera il più possibile uniforme sia sul nastro sia su tutte le cassette di tutto il mondo in maniera molto uniforme, molto sottile, un compound, una pasta, una nutella che comprende una serie di ingredienti. Ad esempio ci sono dei collanti per far rimanere adesa questa pasta al nastro, ci sono dei lubrificanti per fare in modo che il nastro non abbrada la testina di lettura o di registrazione. Ci sono poi dei recipienti, cioè una quantità di materiale che fanno da sostanza base, così come i medicinali e i recipienti, sono quelli che contengono poi i principi attivi. E abbiamo alla fine i principi attivi anche sul nostro nastro, che sono ossidi di metallo, tipicamente ossidi di ferro. Abbiamo sentito parlare di cassette al ferro, ferro cromo, metal, eccetera, eccetera. Notate come io questi ossidi di ferro non li voglio chiamare ruggine, ma è ruggine. Tutti questi ossidi di metallo in forma di cristalli sono dispersi appunto nella nostra nutella sparsa sul nastro, cristalli che quando passano strisciando in un intimo contatto con la testina magnetica vengono orientati un po' come gli aghi di una bussola, vengono orientati a seconda del campo magnetico, ecco un'altra conversione, vengono orientati e creano un'impronta magnetica sul nastro. Questa impronta magnetica si può vedere chiaramente anche con questo simpatico gadget che è un accessorio che serve proprio per vedere sui nastri magnetici o anche sulle carte di credito se il nastro è registrato, quante tracce ci sono, se tutto funziona bene, si vedono provvisivamente le ondulazioni di campo magnetico impresse sugli ossidi di ferro nella nostra nutella. Questo nastro quindi contiene le informazioni, lo arrotoliamo migliaia di volte su se stesso, è probabile che una bobina vada a magnetizzare quella sopra ma non ci pensiamo per il momento e quando andrà riascoltato questo nastro passerà sotto un'altra testina che leggerà il campo magnetico e lo ritrasformerà da campo magnetico in segnale elettrico, ecco un'altra conversione, che andrà poi verso l'impianto di amplificazione. Questo nastro magnetico non è immune da perdite. Pensate che tutti gli ossidi si siano orientati correttamente? Non credo. Pensate che tutti gli ossidi rimangono sempre adesi sul nastro o vadano dispersi magari incollandosi proprio alla testina di registrazione? Quante volte abbiamo pulito una testina di registrazione con il cotton fioc o l'abbiamo sminiatizzata? Pensate che questo è un altro nastro magnetico una volta avvolto su se stesso non vada a magnetizzare la spira del nastro che lo precede e via dicendo? Difficile da dire. Pensate che questo nastro magnetico non venga influenziato, non dico dal campo elettromagnetico terrestre, ma ad esempio quando passa vicino a un televisore, un telefonino, alle nostre diffusore che hanno forti i campi magnetici. Pensate che questo nastro magnetico non sia sensibile all'umidità e al tempo? Ci sono tante variabili. Beh, sembro poco parziale quando parlo di queste cose. Sto parlando dei difetti del nastro e non di quelli del digitale, ma se volete possiamo approfondire, possiamo parlare della profondità dei bit e della frequenza di campionamento digitale, ma è la stessa cosa possiamo fare con la velocità di registrazione dell'altezza del nastro nel caso dell'analogico. Possiamo parlare dei filtri anti-alias nel caso dei digitali, ma potremmo parlare del bias nel caso dell'analogico. E vi assicuro che nel campo dell'analogico ci sono veramente tante altre cose da dire, che ne so, vogliamo parlare dei sistemi di riduzione del rumore, il famoso Dolby A, B o C che prevede una compressione, una spazzolata al rumore e poi una riespansione, lasciamo perdere. L'analogico ha solo da perdere dal confronto. Mi verrebbe invece da chiedervi, quando parliamo di digitale si parla di formati lossless o lossy. Lossless vuol dire senza perdita di segnale, tipicamente le registrazioni codificate in FLAC, ad esempio, o lossy sono quelle registrazioni che hanno una perdita di segnale, tutti i segnali compressi, gli mp3 e gli altri vari formati in streaming che comprimono i dati e che quindi ne causano una perdita. Ma noi ovviamente nel fare la gara useremo un segnale lossless, senza perdite. Il segnale, secondo voi, è lossy o lossless? È con perdite o senza perdite? Non ricomincio dall'inizio a raccontare quante perdite di formazioni musicali ci siano sia nella registrazione su vinile, sia ancor di più nella registrazione su nastro, che per paradosso sembra migliore del vinile solo perché viene prima. Il vinile non è altro che un figlio della registrazione del nastro, quindi non può che essere uguale o peggiore, non certo migliore. Ma allora se il segnale digitale è così superiore al segnale analogico, perché c'è tutto questo amore per il digitale e questo grande ritorno, ad esempio, alla cassetta compact cassette, soprattutto da parte dei giovani? Beh, per quanto riguarda le persone della mia età, l'amore per l'analogico, l'amore per quello che riguarda, l'amore per i vecchi tempi, per quelli che erano i ricordi, per quello che il rituale è giustificabilissimo, io ad esempio preferisco ascoltare un disco analogico che un disco digitale. Queste sono le mie preferenze nell'uso eventualmente quotidiano, ma non dirò mai che il suono analogico è migliore di quello digitale. La cosa strana è come mai c'è questo ritorno da parte dei giovani, giovani che dovrebbero per loro natura essere protesi verso il futuro, giovani che sono sempre stati d'avanguardia, giovani che hanno sempre abbracciato le nuove tecnologie facendo le bandiere, facendo le letture battaglie. Ma forse adesso, oggi come oggi, le nuove tecnologie corrono troppo perfino per i giovani, che non si sentono mai adeguati, che non si sentono mai all'altezza delle novità. Oggi ho comprato l'iPhone 14, sì ma guarda che è già uscito l'iPhone 15. Oggi ho usato ChapGPT, ma guarda che c'è già ChapGPT 4 e anzi è uscito Bard, l'intelligenza artificiale di Google. Insomma, nessuno è mai adeguato, nessuno si sente mai all'avanguardia, tant'è che sai cosa faccio? Io appartengo alla tribù di quelli che amano il vinile, io suono solo il vinile. Non basta, è già pieno di gente che ama il vinile e allora io amo la cassetta, te. E dimmi qualche cosa adesso. Hai notato come sono originale adesso che ti dico che amo la cassetta? Hai notato come sono esclusivo io e le miei tribù? Ecco, quando non si può più guardare al futuro, forse si comincia a guardare al passato per un senso di appartenenza, per dare un significato ai nostri gesti, ai nostri acquisti, alle nostre voglie. Penso si tratti di un meccanismo del genere, sicuramente non si tratta di una migliore esperienza d'ascolto. E a proposito di esperienze d'ascolto, volevo ricordarvi che l'iscrizione al canale del microfono si trova in tutte le edicole, il primo numero è in omaggio, c'è in omaggio anche la copertina del primo volume, gli altri 6.000 numeri successivi costano 15 euro l'una, ma non mi preoccupate, basta solo la prima. A presto!